L'azoto è una sostanza nutritiva indispensabile nella produzione vegetale e nella detenzione di animali. Il principale apporto di azoto nella detenzione di animali è rappresentato dagli alimenti per animali importati o autoprodotti. Nella detenzione di animali, le proteine vegetali sono convertite in proteine animali per produrre derrate alimentari di origine animale, come ad esempio carne o latte. Una parte dell'azoto resta nel ciclo agricolo sotto forma di deiezioni animali, come ad esempio liquame e letame. Questi concimi aziendali sono utilizzati per fornire sostanze nutritive alle colture. Un ulteriore apporto di azoto nella produzione vegetale è rappresentato dai concimi minerali. L'azoto è una sostanza nutritiva importante per i vegetali, è fondamentale per la crescita delle derrate alimentari di origine vegetale destinate alla popolazione, nonché del foraggio per gli animali. Così si chiude il cerchio relativo alla detenzione di animali. In un bilancio si confrontano tra loro i quantitativi apportati e quelli sottratti. Il bilancio dell'azoto dell'agricoltura svizzera è calcolato in base al totale dei quantitativi apportati all'agricoltura e al totale di quelli sottratti dall'agricoltura. Il bilancio, ovvero la differenza tra i quantitativi apportati e quelli sottratti, indica l'entità delle perdite di azoto. Nella stalla, nel cortile, durante lo stoccaggio dei concimi aziendali, nonché con il dilavamento o la volatizzazione nei campi, va perso azoto sotto diverse forme. Tali emissioni, tramite l'aria e il suolo, possono contribuire a creare problemi ambientali. Inoltre, questo azoto non è più disponibile nel ciclo agricolo e, all'occorrenza, deve essere apportato dall'esterno. AgroScope cerca di comprendere come ridurre queste perdite di azoto. Per riuscirci, consideriamo l'intero ciclo delle sostanze nutritive nell'agricoltura, dalla produzione vegetale, passando per la detenzione di animali, fino ai processi nel suolo e al comportamento dei consumatori. Per riuscirci, consideriamo l'intero ciclo dei consumatori. Per riuscirci, consideriamo l'intero ciclo delle sostanze che sono un'intero ciclo di consumatori. Grazie.